Presidente Bidonci, che cosa è successo ieri sera? Ieri sera c'era una riunione tra i nostri militanti a Padova, una delle solite riunioni che si fanno per preparare il programma per le prossime amministrative che abbiamo a Padova. La nuova sede, la granola di Padova, è proprio vicino alla stazione, è una zona abbastanza degradata dove c'è anche lo spaccio. E durante la riunione i militanti hanno sentito delle urla, sono usciti e hanno visto degli extracomunitari di colore che si rincorrevano. Uno è stato completamente deludato, probabilmente per vedere se aveva con sé della droga, quindi una scena abbastanza raccominciante. L'hanno firmata con un telefonino e quindi questo filmato poi è stato anche reso disponibile. Cioè questo fa capire quanto la città di Padova, soprattutto in alcune zone, in alcuni quartieri, abbia bisogno di intervento immediato. Cioè la polizia deve stazionare in questi posti, non può permettere che ci sia spaccio, prostituzione e malaffare in zone così centrali della città. Deve esserci un maggiore controllo, una grossa responsabilità, ce l'ha comunque come sempre l'amministrazione comunale di Padova, che se ne frega di quello che succede nei quartieri, manca l'illuminazione, mancano delle telecamere. Basterebbero forse delle telecamere posizionate proprio nei punti giusti e questi fenomeni non avrebbero sicuramente. Certo che in una città importante del nord come Padova, la città del Santo, ormai questi episodi sono diventati all'ordine del giorno.